buonasera corriere possiamo venire verso le 5 e mezza troviamo qualcuno perfetto stiamo arrivando allora stiamo andando a consegnare una maglia ad un tifoso che non sa chi la porterà vediamo come reagisce ci siamo arrivati e adesso è il codiere ciao ora consigliare questa maglia piacere non ti aspettavi in questo corriere sapevo che dovessi arrivare ma non c'è il corriere che trovava la donna eh lo so ti abbiamo fregato dai però questa è per te abita se vuoi ti ringrazio per aver acquistato la mia ma grazie a te mi fa onore ma no ma non era per me cazzo ci vado penso vedere uno dei giocatori dato a scorrere il cuore che ti porta la maglia è bello è tanto bello è veramente tanto bello ciao 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 ciao